Allora per noi è un onore grandissimo poter avere qui l'invito a salire sul palco Thomas Thomas Evans, il papà di Alfie. Siamo molto fieri del fatto. Grazie. Sono molto contenta perché non vuole salire sul palco ma in platea c'è anche Kate. Loro sono appena diventati genitori di nuovo. We have another baby. Quindi gli facciamo anche un applauso di congratulazioni per essere diventati nuovamente genitori. Ringraziamo il direttore dell'Avvenire Marco Tarquinio, siamo molto fieri di avere anche lui oggi. E io do la parola a Paolo Truzzo, il nostro presidente dei consiglieri regionali dei Fratelli d'Italia in Sardegna, per la consegna del premio. Thomas. Emanuele Dileo, chiedo scusa. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Diceva Dostoevsky ama la vita più della sua logica e solo allora ne capirà il senso. Io penso che queste parole ci descrivano meglio di ogni cosa e meglio di ogni sentimento qual è il significato vero della vita, qual è il significato vero della vicenda che ha riguardato Alfie Evans e papà Thomas e la mamma Kate. ci aiuti anche a capire quello che è successo un anno fa a livello internazionale e a livello nazionale. Viviamo un momento, un mondo in cui tutto ha un prezzo, in cui tutto è merce, in cui tutto può essere comprato. Si ha forse anche la convinzione che la vita, che è il dono più prezioso che ognuno di noi ha ricevuto, possa essere un oggetto di scambio, una merce e possa avere un valore. Ci sia qualcuno che possa decidere che per un bambino è meglio morire piuttosto che vivere. È un mondo che noi chiamiamo un mondo di civiltà, di progresso, che ogni giorno migliora, ma che per le persone di buon senso quali siamo noi, invece sembra ogni giorno tornare indietro e non rappresentare più una sfida di civiltà, ma una sfida di regressione, alla quale noi personalmente ci opponiamo e combatteremo sempre con tutte le nostre forze, qualsiasi ipotesi e qualsiasi scelta che vada in questa direzione. Io volevo anche ringraziare nell'occasione la nostra Presidente, Giorgia Meloni, perché ne parlavamo prima col Direttore dell'Avvenire. Credo che ad aprile, ricordate tutti la vicenda dal punto di vista storico, quello che è successo, nel momento in cui l'Alta Corte inglese decise di avere l'ordine sostanzialmente di staccare il respiratore, in quello stesso giorno, grazie ad una battaglia di Giorgia, un appello forte che Giorgia fece alle istituzioni, rappresentanti di tutte le forze politiche, in un momento difficile anche per la vita dell'Italia, perché non c'era un governo, avevamo appena affrontato le elezioni, in poche ore successe una cosa, io che osò definire meravigliosa, perché rappresentanti istituzionali ma di partiti diversi, a volte anche con posizioni politiche differenti su questo tema che è assolutamente divisivo e sappiamo quanto sia divisivo in Italia, in poche ore decisero di consegnare ad Alfie la cittadinanza italiana e dargli la possibilità di avere una speranza in più, di poter affrontare le cure nel nostro Paese. È stato un grande momento, un grande momento che noi dobbiamo ricordare e di cui dobbiamo essere orgogliosi, come movimento e per il quale dobbiamo ogni giorno ringraziare Giorgia. Grazie mille, grazie mille. 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 O se dovevamo svegliarci, per magia tutto questo sarebbe finito. Nel frattempo la storia di Alfie arrivò in media e il gruppo Alfie Armi su Facebook raggiunse oltre 800.000 followers da tutto il mondo. L'ospedale Bambino Gesù ha offerto una speranza di accettare la possibilità di guardare Alfie e assisteremo fino al suo ultimo respiro. Anche un hospital italiano ha fatto lo stesso. Defiando tutti gli uomini, Alfie continuò a fare i loro piccoli. Era potente unire il mondo. Il, il che non era potente parlare, permette di parlare di altri a parlare di lui e di lui. In februari 2018, i procurazioni principali. Mi ero in giro in giro senza un luogo. Il giudice non ha permesso di farlo in giro in giro, e ho dovuto difendere la posizione per me. Mi ero in giro. Mi ero in giro che tutto ciò era controllo, e probabilmente tutto ciò che ho detto non sarebbe considerato. Ma non ho mai avuto la scuola senza l'arrivo, mai. Kate e noi avevamo discusso la possibilità di Alfie's morte. Ho anche detto questo in giro, che non avesseremmo quello che Alfie potrebbe essere fatto per la decisione di persone e non per la wille di Dio. e anche perché eravamo assurati che la possibilità di una diagnosi completa si era scelta dall'ospedale. L'ospedale Bambino Gesù ci offrì una speranza, dichiarandosi disposto a prendere in cura Alfie e assisterlo fino all'ultimo respiro. Un ospedale tedesco fece altrettanto. Alfie continuava a fare piccoli miracoli. Aveva unito il mondo. Lui che non poteva parlare aveva fatto in modo che gli altri parlassero di lui e per lui. A febbraio 2018 iniziò il processo. Ho dovuto varcare la soglia del Tribunale da solo, senza avvocato. Il giudice non ci concesse di ritardare l'avvio del procedimento e ho dovuto svolgere io quel ruolo. Avevo paura. Sapevo che tutto era contro di noi, che probabilmente quello che dicevo non sarebbe stato tenuto in considerazione. Ma non avrei mai rinunciato senza lottare. Mai. Io e Kate non avremmo discusso sulla sicura morte di Alfie. L'ho dichiarato anche in Tribunale. Quello che non potevamo accettare era che Alfie morisse per mano d'uomo e non per volontà di Dio. Soprattutto... Soprattutto perché eravamo certi della possibilità di una diagnosi completa che veniva rifiutata. No, 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 no. Soprattutto perché eravamo stati una copia del protocollo. Nessun dottore testimoniò che Alfie soffriva o avrebbe avuto una morte naturale in tempi brevi. Lo potete leggere nelle sentenze. I giudici inglesi di ogni grado diedero ragione all'ospedale. L'11 aprile la Corte Europea dei diritti dell'uomo rifiutò di ascoltare la nostra storia. Nessuno ritenne giusto e umano salvare una vita che, per quanto ferita, meritava una possibilità. Tutte le possibilità giuridiche parvero finite. L'ospedale aveva vinto, poteva agire liberamente. Ci venne consegnata la copia del protocollo che spiegava come Alfie avrebbe raggiunto la morte. Leggere quei fogli è stata una delle cose più difficili della nostra vita. Vedere nero su bianco fino a che punto può arrivare l'ingerenza dello Stato nella vita di un privato cittadino ci ha lasciati sconvolti. Era tutto scritto lì. Ogni attimo che avremmo passato con nostro figlio era descritto nei più piccoli dettagli e non poteva essere più in nessun modo modificato. At that exact moment, Kate and I firmly reconsidered again our intention of not giving up. Since then, we were in a close contact with the people at Steadfast in Italy who were helping us on obtaining a humanitarian protection to bring Alfie to Italy. We also took in consideration the possibility of a non-violent rally outside the hospital. On the 12th of April, our lawyers obtained the reopening of the trial in court and the permission for Alfie to live till the 16th of April. We were terrified, but we wanted to save Alfie at all cost. And also with the help of some Polish supporters, we tried to take him away from the hospital using an air ambulance with the help of a specialized medical team. I will never forget that night. people came to make Alfie feel their love. The whole world was following the broadcast of people using social media. Everyone was praying for our family. In quel momento, io e Kate abbiamo rinnovato il proposito di non arrenderci. Da tempo eravamo in contatto serrato con Steadfast, che ci stava aiutando a ottenere un permesso umanitario per portare Alfie in Italia. Abbiamo valutato la possibilità di fare una manifestazione non violenta fuori dall'ospedale. Il 12 aprile, i nostri legali ottennero la riapertura del processo e che Alfie potesse vivere fino a 16. Eravamo terrorizzati, ma Alfie andava salvato ad ogni costo e con l'aiuto di alcuni supporter polacchi ci organizziamo per portarlo via dall'ospedale con un'eliambulanza e un team medico specializzato. Non potrò mai scordare quella notte. La gente arrivò da Alfie per far sentire il suo amore. Il mondo intero seguiva i collegamenti che i supporter mandavano in onda ininterrottamente usando i canali social. Tutti pregavano per la nostra famiglia. grazie a tutti. 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 e anche se aveva già parlato di lui, mi ha spostato di nuovo e mi ha deciso di ricevermi in un'ordine privata l'18 di aprile. L'ospedale venne piantonato dalla polizia giorno e notte. Furono giorni difficili e dolorosi dove ci sentimo sopraffati dall'ingiustizia, di quello che la legge inglese chiamava invece giustizia. Nel frattempo Stedfast continuava a premere sui politici affinché potessimo essere accolti nel vostro Paese. Si appellarono anche al Papa chiedendo di parlare di Alfi durante la messa in piazza San Pietro del 15 aprile. Papa Francesco aveva a cuore il nostro bimbo, ne aveva già parlato, ma si espose nuovamente e mi ricevette in udienza privata il 18 aprile. L'ospedale aveva a cuore il nostro bimbo, e che l'ospedale aveva bisogno di agire senza aspettare la decisione dell'europeale, che si è confermato dopo di non ascoltare il nostro caso. Il Popo ci ha mostrato il suo amore di nuovo. Il ha chiesto di rispondere la nostra sofferenza e la nostra capacità di proseguire nuovi trattamenti. Il giorno dopo l'ospedale iniziò a implementare il protocollo di vita. Il direttore di Bambino Gesù arrivò in Liverpool in un'attempo estremamente di salvare Alfi, ma si era denuncia di interagire con l'ospedale. Quando ero ancora ricordando un altro video di questo infatti, il mondo potrebbe vedere il nostro sonno vivo. In realtà, Alfi abbiò i occhi e mi ha dato la dimostrazione della sua possibilità di combattere. In quel momento ho capito che Alfi aveva compiuto un altro piccolo miracolo. Veni ricevuto dal Papa che mi disse che stavo difendendo mio figlio con coraggio e mi promise che avrebbe fatto il possibile per portare Alfi e Bambino Gesù. Il 22 aprile la Corte Suprema stabilì nuovamente che Alfi doveva morire nel suo migliore interesse e che l'ospedale doveva agire senza attendere le decisioni della Corte Europea, che comunque rinnoverà la decisione di non ascoltare il nostro caso. Il Papa ci dimostrò ancora il suo affetto, chiese di rispettare la nostra sofferenza e la nostra volontà di tentare nuovi trattamenti. Il giorno dopo l'ospedale iniziò le procedure per attuare il protocollo. La direttrice del Bambino Gesù arrivò a Liverpool in un estremo tentativo di salvare Alfi, ma non le venne concesso nemmeno di oltrepassare la porta dell'ospedale. Mentre giravo l'ennesimo video di denuncia affinché il mondo potesse vedere il nostro figlio vivo, Alfi aprì gli occhi dando nuova dimostrazione della sua voglia di lottare. I will never be able to explain in the words, the pain, the distress and the fear I felt, but I can reassure you that the flame of faith and hope inside me and Kate never ended. In those frenetic moments, in Italy there were people continue to work in silence for Alfi to the point that he became officially an Italian citizen. Kate and I would heartily thank Steadfast, Giorgio Maloney and everyone who fought this battle with us. The Italian people and the Italian government have shown us an incredible closeness, which we could have never imagined. Though this didn't refrain the hospital with the removal of all life support. After removal of life support, Alfie performed yet another miracle. He was able to breathe on his own, providing the doctor's wrong. They had declared in court, in fact, that he would only survive a few hours a day at most. The judge refused to recognize the new citizenship and on the 25th of April they issued the definite death sentence for Alfie. The last days of his life had been in agony. We spent time with him 24-7, sleeping on the floor. The police searched our bags to prevent us entering the hospital, anything that could help Alfie to survive. There had to be the certainty that he would have passed. Even if not prescribed into the end-of-life protocol, nutrition and hydration were discontinued. The judge ordered these to be restored upon our request. Mechanical ventilation was also interrupted, though Alfie, by breathing on his own, proved the doctor's wrong once again. During his agitated moments, we were prepared. All the Italian passports, with the help of Steadfast, we were planning to appeal before the European Court of Justice. Sadly, on the 9th of the 28th of April, Alfie put his wings up and flew to heaven. Never in heaven in my life. I will allow that. His short life left a million marks, left a mark in a million people, in a million hearts. I will never be able to explain the pain and fear. But I can tell you that within me, Kate, the flame of faith and hope has never been spent. In that moment, in Italy, we continued to work in silence and to Alfie came to the city of Italy. I and Kate ringraziamo di cuore Steadfast, Giorgia Meloni e tutti quanti hanno lottato con noi. Il povo e il governo italiano ci hanno dimostrato una vicinanza incredibile, che mai avremmo potuto immaginare. Ma l'ospedale non si fermò e procedette con il distacco. Alfie compì l'ennesimo miracolo. Respirava da solo, dimostrando ai dottori che si sbagliavano. Avevano dichiarato in corte che sarebbe sopravvissuto poche ore, un giorno al massimo. I giudici rifiutarono di riconoscere la nuova cittadinanza e il 25 aprile emanaron la definitiva condanna morte per Alfie. Gli ultimi giorni della sua vita furono un calvario. Passammo con lui giorno e notte, dormendo per terra. La polizia ci perquisiva per evitare che introducessimo in ospedale qualsiasi cosa potesse aiutare Alfie a sopravvivere. Doveva esserci la certezza che Alfie morisse. Venne interrotta l'alimentazione e l'idratazione, senza che fosse previsto nel protocollo. Il giudice ne impose il ripristino dopo nostra richiesta. Venne interrotta la ventilazione meccanica, ma Alfie, respirando da solo, dimostrò che sarebbe stato possibile uno svezzamento dal respiratore che ci è sempre stato negato. Con Steadfast intanto stavamo preparando i passaporti italiani e progettavamo il ricorso alla Corte Europea di Giustizia. Ma la notte del 28 aprile Alfie ha messo le finali ed è volato in paradiso. Mai, mai nella mia vita permetterò che Alfie sia morto in vano. La sua breve vita ha lasciato un segno in milioni di persone, in milioni di cuori. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Purtroppo Alfie non ha mai avuto una reale possibilità di salvarsi. È stato stritolato dalle maglie del sistema medico giuridico inglese, che ha mostrato il suo vero volto e anche tutta la sua ferocia. Con la pretesa di agire nel suo migliore interesse ad Alfie sono stati tolti tutti i diritti umani fondamentali, il diritto alla vita, il diritto alle cure, il diritto alla dignità, il diritto all'amore dei suoi genitori. Nel Regno Unito l'eutanasia è illegale. Non ci sono eccezioni. È illegale. Alfie, quindi, è stato eutanasizzato utilizzando un escamotage giuridico. Il miglior interesse prevale e giustifica tutto. Ma chi è così edotto, così infallibile da poter decidere senza ripensamenti o rimorsi che il miglior interesse per un'altra persona è la sua morte? E quando si tratta di un bambino o di un anziano, di qualcuno incapace di intendere o volere, chi può pensare davvero che provocarne la morte sia quanto di meglio gli si può offrire? Un malato necessita di cura e attenzione, di amore, prima ancora che di medicine e trattamenti. Questo e solo questo un malato si aspetta di ricevere quando entra in un ospedale. Ora siamo arrivati al punto che un genitore con un figlio malato, o magari presunto malato, deve pensare se sia meglio portarlo in ospedale o prenotare un volo verso uno Stato a favore della vita. Ma tra poco, dove si potrà andare? L'Europa stessa ha permesso l'introduzione dell'eutanasia legale in alcuni Stati membri. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dimostrato di essere completamente inefficace. Addirittura si rifiuta di ascoltare i casi che le vengono sottoposti. La libera circolazione in Europa, per cercare la miglior cura disponibile, resta un'utopia irrealizzabile. Noi inglesi tra poco usciremo dall'Europa, così saremo ancora più costretti a subire questa legge assurda che ci impone di far morire i nostri figli anziché tentare di salvarli. Ma Alfie non è morto in vano, lo ripeto. Alfie ci ha indicato la strada da seguire e noi non ci fermeremo. Grazie a tutti. 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 tempo, quindi ho scritto due o tre punti per poter dire un po' qual è il mio pensiero. Quello che vi chiedo adesso è di immedesimarvi, di fare un piccolo sforzo. Provate a pensare che siete ricoverati nel miglior ospedale del vostro paese. Vengono i medici e vi dicono che tu hai una malattia degenerativa e che purtroppo non c'è cura e che quindi per il tuo migliore interesse c'è la morte. Allora decidi di chiedere un consulto, chiedi ad altri medici un parere e questi medici invece ti dicono no, vediamo, facciamo altri accertamenti. Giustamente rifletti e dici vado nell'altro ospedale dove stanno gli altri medici. Ma il tuo ospedale dove sei ricoverato non te lo permette e continuo a ribadire che per il tuo migliore interesse la cosa più giusta è la morte. Vi siete immedesimati? Questo è successo a un bambino di due anni. Ora pensate se questo bambino fosse vostro figlio. Abbiamo un'Europa, l'Europa che decide se un fagiolino deve essere lungo 8 centimetri o 0 centimetri, che leggifera sulle frontiere, che arriva a dirci che i mercati economici ci daranno una lezione per dire chi votare. Un'Europa che vuole venirci a insegnare cosa sono i diritti umani. Io adesso mi pongo una domanda e vi pongo questa domanda. Dov'è quell'Europa quando un pensiero genetico sta uccidendo i suoi figli? Dov'è quell'Europa con le frontiere aperte quando non riesce neanche a permettere a un cittadino europeo di poter transitare nei paesi membri e poter accedere ai servizi sanitari di altri paesi? Noi tutti ci siamo mobilitati, siamo stati veramente tanti. Se io adesso mi fermo a riflettere, a pensare, rimango anche stupito. Più di un milione di persone si è mobilitato dal Santo Padre a politici influenti, a persone comuni, dall'Italia alla Polonia, dall'Ungheria agli Stati Uniti, dal Brasile alla Nigeria, al Pakistan, ne ho citati solamente qualcuno. Tutti in maniera unanima hanno detto il loro no a quello che stava facendo l'Inghilterra. L'Europa che io sogno, l'Europa che io da cittadino voglio costruire è un'Europa che tiene i suoi figli, che salva i suoi figli. Questo non sta accadendo e adesso noi in Italia e questo è un appello che rivolgo a Giorgia, abbiamo una legge che sono disposizioni anticipate di trattamento che stanno aprendo un grande corridoio verso la via inglese. Mi auspico che ci sia un buon dibattito parlamentare per poter discutere e scegliere la cosa più giusta da fare. Io a nome mio, a nome di Statsfast, a nome di tante persone che avrebbero voluto essere qui ma per vari motivi non sono riuscite ad essere presenti, ringrazio Tom e Kate perché con il loro valore, il loro coraggio, la loro forza ci hanno insegnato da ragazzi giovani, ventenni, ad essere dei veri genitori. Grazie. Grazie Emanuele, grazie anche all'associazione Steadfast. Le domande sarebbero tante però il tempo è tiranno quindi cercheremo di concentrarle. Direttore Tarquinio. Io ascoltando il racconto di Tom, ci sono alcune frasi che mi hanno un po' fatto a capone della pelle. La prima è nell'esclusivo interesse del bambino, nel migliore interesse del bambino. Che mondo è quello in cui il migliore interesse del bambino è la morte e non la vita? E l'altra domanda che volevo fare è legata un po' a quello che dicevo all'inizio. Quale impatto ha avuto anche sull'Italia questa vicenda dal punto di vista mediatico? È vero che voi siete stati quasi l'unico giornale, se non l'unico, che ha seguito quotidianamente la vicenda. Però lo dicevamo prima, si è realizzata una convergenza politica che su un fatto sicuramente che coinvolgeva la sacralità della vita, quindi il bene più prezioso che abbiamo, che non si è mai vista. Sì, ci sono tanti elementi. Buongiorno, intanto ben trovati. È molto importante quello che sta accadendo qui oggi. Io sono grato davvero a Tom Evans per quello che ci ha detto e per come l'ha detto, perché tanti italiani e tanti altri nel mondo, nonostante ciò che abbiamo raccontato, la mobilitazione, hanno fatto fatica a capire cosa stesse accadendo. Perché c'è stata ancora una volta quella cupola informativa che cancella determinate notizie o le mistifica e le distorce. Quindi non arrivano alla loro verità. Lo dico chiaro, insomma, attraverso i media di quello che Papa Francesco chiama il pensiero dominante, che tende a farsi unico, questa storia è stata raccontata solo nell'ostinazione dei genitori che volevano salvare oltre ciò che era giusto, fare una battaglia oltre ciò che era giusto. Questo mi riferisco quando si parla di qualcosa di mistificante. Allora, intanto dobbiamo essere grandi perché lui ha fatto il cronista oggi e io sono ammirato per la forza d'animo con cui è riuscito a ripercorrere tutta questa vicenda drammatica. Come sono grato a Emanuele Di Leo e gli altri amici della sua onlus che hanno lavorato perché questo si rompesse questo muro del silenzio. Dirigo un giornale che su questa frontiera è impegnato e sempre più consapevole dei limiti. Io sono anche consapevole che nessun caso è uguale all'altro. E uno dei mali del nostro tempo è la massificazione anche nel considerare tutto uguale. Quindi la vicenda di Alfie è la vicenda di Alfie, la vicenda di Charlie è la vicenda di Charlie. Ci sono delle differenze. Solo chi pensa che tutto sia uguale, che siamo in una notte in cui tutto è uguale, può pensare che tutto sia uguale. Però c'è qualcosa che deve essere uguale. Il presidio di legge ha il diritto alla vita delle persone. E quello che sta accadendo nel nostro tempo è il capovolgimento di questo principio fondamentale. Gli antichi lo chiamavano favor vite. Un ordinamento giuridico diventa civile nel momento in cui è presidiato da un principio di favor vite. Noi lo stiamo capovolgendo in un principio di favor mortis. Se il miglior interesse diventa far morire una persona abbiamo il capovolgimento uno dei capisaldi. E questo è drammatico. Sapete perché? Perché qualunque legge noi possiamo fare, se passa e si consolida il principio del favor mortis, le norme porteranno anche le migliori soltanto nella direzione sbagliata. E questo che dobbiamo avere ben chiaro lo dico ai legislatori. Lo dico ai cittadini che devono incalzare e vigilare su quello che fanno i legislatori e gli uomini di governo a qualunque livello. Il caso che ci è stato messo davanti nella sua cruda verità ci dice esattamente questo. Una legge inglese, una legge mobile. È legata alla giurisprudenza, al pronunciamento dei giudici. E ci ha dimostrato ancora una volta cosa può accadere quando un pensiero commissaria la legge e la trasforma su immagini e somiglianze. Una pratica rende la legge. Vi ricordate la canzone di De Andrè Giordi? Nel cuore degli inglesi e nello scetto del re potranno cambiare la legge perché la legge non può cambiare. Questa legge è stata fatta cambiare da un occhio sulla vita, da un modo di guardare la vita. E' stata trasformata un insieme di norme che non sono mortifere in una macchina di morte. Nell'assenza dell'opinione pubblica in Inghilterra c'era TV 2000 e c'era la mia inviata ma dei grandi quotidiani non c'è stato nessuno per giorni a seguire la cosa davanti all'ospedale. C'erano altri colleghi attraverso siti che hanno fatto un lavoro. Però questa è la cosa che dobbiamo considerare. E questo vale per la legge italiana. Noi abbiamo una legge che è stata richiamata di Leo, rischiosa, ma dipenderà tutto da come verrà fatta applicare, da come gli uomini e le donne la applicheranno, medici e famiglie. Sapete che paradossalmente per la legge italiana la famiglia avrebbe avuto una parola forte tanto quanto se non di più di quella dei medici. Giorgia Menoni lo sa bene. Però la legge italiana, io questo contesto all'inizio di questa legge, è fatta in maniera tale che poi si arriva al conflitto e si finisce di nuovo davanti ai giudici. E quindi ci sarà un giudizio nel quale influirà il pensiero dominante per orientare le cose. Questo è il rischio della legge italiana. Ma se diamo già per scontato che questa legge sia eutanasia, noi ci arriveremo disparati attraverso tutte le menzogne che anche gli altri sistemi costruiscono. La legge inglese che proibisce l'eutanasia e poi la realizza nella pratica. La Svizzera che ci è stata presentata come il modello di civiltà a cui ispirarci. Sapete cosa dice la legge svizzera? Che non si può fare l'eutanasia. Però se si fa un intervento a fin di bene da un'organizzazione non lucrativa si può fare. Per cui non esistono cliniche e tu non paghi il servizio di morte nelle cliniche di dignità in Svizzera. Paghi, fai una donazione preventiva, tant'è che se ci ripensi i soldi si ritengono. Anche questo quanti lo sanno che funziona così la cosa? Quando sentite ripetere sempre la civiltà, la civiltà, la civiltà. Questa è l'inciviltà del capovolgimento di quel principio che dicevo all'inizio. E questo è il dramma che abbiamo davanti. E questa questione è drammatica perché non ci consentono di capirla fino in fondo. Per questo c'è bisogno che la testimonianza di Tom e Katie circoli e diventi consapevolezza comune. Perché sono le storie e i volti delle persone che ci aiutano a capire dove sta andando la nostra vita. Non le chiacchiere di quelli come me o anche dei politici quando chiacchiano e basta e non fanno i fatti. E non fanno i fatti buoni. Ecco perché bisogna essere grati. Forse ho parlato anche troppo. L'ultima cosa vorrei dire, pensiamoci bene, siamo in un continente che invecchia, che ha paura della vita e della vita scomoda e ci viene a raccontare che il modo migliore per risolvere i problemi degli imperfetti e tutti lo diventiamo invecchiando. È quello di arrivederci e grazie. Con una legge che vige. Sapete che ci sono paesi europei che hanno già stabilito addirittura anche l'eutanasia per i minorenni. Il Belgio, l'Olanda si sta incamminando e sta discutendo dell'eutanasia dei disabili. Sono cose che pensavamo aver cancellato dal nostro orizzonte, ma tornano d'estrema attualità e non sono modi di dire, ma sono modi di costruire il sistema giuridico. Diceva Emanuele Di Leo, ci serve un'Europa che vigili su questo. Questo bisogna costruire. Ma sapete, aver negato le radici culturali del nostro continente significa essere diventati banderuole di fronte a questi venti, a queste tempeste. E se ne renderanno conto sempre meglio anche quelli che hanno girato la testa. Io mi auguro che la politica sia capace di fare quello che ha fatto a partire dall'appello di Giorgia Meloni. Partendo da posizioni diverse, capire che c'è qualcosa che o ci unisce tutti o non possiamo vivere, non possiamo vivere insieme. Grazie. Grazie direttore. Consegniamo il direttore Tarquinio, consegna il premio a Treiu 2018 a Tom Evans. Grazie. Grazie. È un premio che dà Treiu. Io dico che lo diamo nel miglior interesse della causa della vita, nel miglior interesse, l'unico che vale la pena. Grazie a tutti, grazie a Tom, grazie a Kate per questa fantastica giornata e grazie a voi per averci seguito fino adesso. Buona giornata. Grazie.